Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Finalmente una buona notizia per i vertici di Rai 3, l'intervista esclusiva risolleva le sorti del programma In questo periodo il termometro politico del bel paese rivela un fervore sempre crescente Mentre le forze politiche alleate o contrapposte di preparano ad un'infuocata campagna elettorale in previsione del 25 settembre, i talk show di rilievo nel panorama televisivo lottano per accaparrarsi gli ospiti più ambiti Una manciata di ore fa la giornalista Ducia Annunziata ha colto la palla al balzo per piazzare uno scoop senza precedenti, segnando un picco di share insolito per Rai 3. Solamente qualche mese fa la giornalista Ducia Annunziata era incappata in una gravissima Gheff in diretta Durante uno speciale del Tg3 dedicato alle fasi iniziali del conflitto tra Russia e Ucraina, la conduttrice aveva commentato il destino dei profughi di guerra in arrivo in Italia Certa che i microfoni fossero spenti, la giornalista aveva commentato, centinaia di migliaia di camerieri e badanti Il collega Antonio Di Bella aveva soggiunto Beffardo. E amanti Lucia Annunziata si è in seguito profusa in scuse, redigendo una lettera pubblica per fare ammenda delle sue affermazioni soc Frasi che al di là del contesto e delle intenzioni sono suonate inopportune, offensive, e soprattutto un atto di estrema stupidità, si era cosparse il capo di cenere la conduttrice Anche il collega Antonio Di Bella aveva al tempo imitato l'annunziata, aggiungendo, rilevo dai social che alcuni miei commenti in studio fuori Ondanello speciale Tg3 sulla guerra possono avere offeso la comunità ucraina in Italia e in particolare la sua componente femminile Erano frasi da non pronunciare. Me ne rammarico e chiedo scusa alle donne e agli uomini della comunità ucraina in Italia La conduttrice al momento è impegnata nella conduzione del talk shop meridiano mezz'ora in più, in onda ogni domenica su Rai 3 dalle 14 30 alle 16,30. Con l'occasione dello strappo al PD del leader di azione Carlo Calenda, la giornalista ha invitato il politico nel suo studio, permettendogli di argomentare la sua scelta La serrata intervista ha conquistato il pubblico della pubblica emittente, segnando un incredibile 11,9% di share, con Banuno 142.000 spettatori incollati agli schermi.Grosso riscatto per la conduttrice Rai, soprattutto alla luce del suo recente tracollo di immagine Si prospetta un futuro di scoop, per la controversa giornalista? Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie a tutti